No raga, io non lo mangio Ah, Giulia, no! E' questa... 3, 2, 1, go! Buongiorno ragazzi e ragazzi Oggi siamo ritornati qui con il prossimo Il prossimo video! Ebbene sì raga, questo si tratta di un video strafigo Perché è il video Gummy vs Real Abbiamo tutto a tema Halloween Pecchielli a tema Halloween Il vassoio è a tema Halloween Tutto a tema Halloween E' anche il nostro trucco a tema Halloween Questo è anche prontino a tema Halloween Io so con questa maglia perché... E' là E comunque questi vassoio noi li useremo sempre per questo Anche per un'altra cosa Vabbè, vabbè, non spoileriamo Niente, iniziamo Questa è la Gummy vs Real E chi troverà la caramella Gummy avrà un punto Chi non troverà il Gummy, troverà l'oggetto, quello che è Zero punti Quindi, adesso ci procediamo Rì, ciù, va Iniziamo Noi cerchiamo Allora, chi inizia? sasso carta for bici sasso carta for bici aspetta mi scusate sasso carta for bici io io scelgo di tenerlo ok 3 2 1 go si vabbè almeno la zucchetta è carina ha un punto è anche buono comunque 0 punti dai però è carina 0 punti quindi 1 team Giulia 0 team Margher prossimo round non rompere la padaria magari a chi tocca a me se ho paura aspetta mettilo più sotto allora si può quello che dice Giulia come ha detto prima Giulia me la tengo 3 ciò no raga no io non lo prendo io la dovrei mangiare questa roba raga puzza un accidente cos'è cos'è un occhio vinto ma cos'è no raga io non lo mangio ah Giulia no no raga Giulia è troppo no no io vicino all'occhio non lo vedi raga ma esce questa roba esce mi ha dato via l'occhio è buona però solo col pensiero che me la sto mangiando assaggia la palpa oh ferma 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 però è morbido quella non è è gelatina vabbè comunque punto a me uno pari uno pari andiamo avanti spero che almeno è capitata una cosa buona prima andiamo avanti si andiamo avanti è quella cosa puzza raga è anche buono raga però fa impressione però quello puzza quindi non lo provo a pregge girate girate attenzione non toccate un attimo non toccate eh chi tocca io io lo tengo va bene senza finire l'intendenza a pensare un po' ci qua si che cos'è che cos'è lo scheletro bello ma se me lo apre no lo voglio assaggiare come te giuli uno scheletro messicano aspetta lo apro io te lo apro io sta sbranando tutto ha troppa fame questo ragazzino non è vero voglio assaggiarlo fallo vedere fallo vedere aspetta fallo vedere è carino io ho una maschera che hai tu proprio esatto la stessa maschera no no bocciato via andiamo ciao scheletro ciao ti voglio più bene non puoi toccarlo giratevi giratevi quindi tu hai maghe no tu giura uno maghe giratevi giratevi non giuro non parare giuro mi sto quasi non stai guardando giuro appena te devo scegliere comunque io non sbricciare comunque vediamo dire che tutto questo qui vedete lo sfondo l'abbiamo fatto solo io ho visto il video giuro si hanno visto andate a vedere room tour voglio per gli sbricciare andate a vedere room tour cosa fai? aspetta non toccare ah con questo ha due scusa due e marghe uno cosa fai? lo cambio è la prima volta che si andrà a fare cosa 3 2 2 2 2 2 2 2 2 che cos'è Giulia? adza un po non ti vedi? adza un po che cos'è Giulia? marghe non riusciamo a capire che mi straglie come sono quelli commosi? no 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 perdi non puoi perdi 2 pari posso stare 2 pari l'ultimo round raga puoi dire al centro? Ok giratemi Giratemi Sempre la pressa Ciao Ciao bro Sì No Non sei po' Tu guardi No guarda nella telecamera Girati Non toccate Io la tengo Ma Mi ha portato volto Da casa dite si ha barato Perché io stavo girato mentre parla di cat Ho detto subito lo scelgo Mi sembra strano No No Ho sentito l'uomo Infatti Che è successo? La dentiera Quindi Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Il team Giulia 3 Team Marghe E' pure buona Chi Questa se butca Clinic Allora Buona Aia B zijn Agora Buona Basta Buona batte н Diciamo che Questa challenge può terminare qui Come al solito 3,2 Prima Marghe Uncora perdente Ho perso ma quando mai Siamo pari No bellissimo Guarda un po' qua E' perso Mi rifarò Quindi 3,2,1,go Quindi ragazzi Questo è il video Spero che vi sia piaciuto tantissimo Iscrivetevi a Instagram Marghe Giulia Kawaii Su Facebook Marghe Giulia Kawaii Sul secondo canale Marghe Giulia il secondo canale Sul TikTok Marghe Giulia Kawaii Se volete le maglie, le cover, le tattie Andate su www.marghegiulia-kawaii.it Se vi mandiamo un sorvelo E seguiamo al prossimo video Se vi è piaciuto lasciate un like Se non vi è piaciuto Ciao Ciao